Caffoncella ho una proposta da farti guarda che è la proposta finale mi voglio rovinare faccio all in dove mi voglio rovinare sono pronto sono pronta ascoltate a fare per tutta la serata il tuo servitore personale faccio tutto quello che dici se però imbrachi vai a otto metri di altezza come me e scendi è perché è tutto pronto è alla pari è alla pari ci penso ci posso pensare però aspetta 8 metri è lì guarda però voglio sapere tu in cambio che porti perché sul tavolo ha scommesso deve essere pari se no ma come se scusa però se non ti imbrachi che fai a che fai 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 ballo balliamo insieme